I lavori in via Como sono partiti lunedì scorso e mi sono appena sentito e confrontato con il responsabile della Lario Reti e a oggi tutte le tubature che dovevano essere messe volanti per poter dare l'acqua ai cittadini sono state posate e da oggi si inizia a scavare, si parte da dove c'è il tabacchino radici dentro all'interno per arrivare poi giù fino all'incrocio con via Barozza. Sicuramente è un lavoro lungo e abbastanza difficile perché siamo in una stettoria e sotto si sono rilevati tanti sottoservizi ogni volta che verrà scavato un tratto verrà poi ricoperto perciò dopo quando si arriverà a Piazza Panzeri verrà ricoperto quel tratto e un pezzo della via Como verrà aperto non per andare a sala però per gli residenti di via Carlo Porta, via Bertarelli e Camporeso si potrà poi usufruire la strada. Non posso nascondere che alcuni disagi sono stati creati sia per i residenti sia per quelli che da Galbiate vanno verso Sala e quelli da Sala verso Galbiate. Capiamo che si è creato un disagio però un'amministrazione con la Lario Reti abbiamo messo sul piatto la problematica dell'acquedotto. In questi due o tre anni stiamo riqualificando tutto il nostro acquedotto perciò chiedo ai cittadini di portare pazienza i risultati si vedranno. Le perdite in quelle zone lì sicuramente non ci saranno più perché le tubature sono nuove.